Ritorno all'appuntamento con Tra le righe, appuntamento in libreria, la libreria è quella voce di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Come nostra abitudine partiamo con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina, questa volta proprio riguarda la sua vita, la sua spiritualità, infatti il nuovo profilo biografico aggiornato, firmato da Stefano Campanella, intitolato semplicemente Padre Pio, il cammino di un santo. Voglio leggervi un passaggio nella presentazione di Padre Franco Moscone, a proposito dell'importanza di poter avere tra le mani un libro come questo, perché come scrive il Padre Arcivescovo, dentro una vasta produzione letteraria e cinematografica diventa difficile orientarsi, rischiando di perdere tempo. Per chi come me ha bisogno di raggiungere una corretta informazione e formazione su Padre Pio e non possiede molto tempo, avere a disposizione materiale corretto e scientifico, tanto sotto il profilo storico che spirituale, diventa un'esigenza. Il lavoro che qui presento fa sicuro parte di questo gruppo di pubblicazioni. Alla personale esigenza formativa aggiungo che l'interesse che giustifica la pubblicazione di un ennesimo volume è anche dovuto al fatto che per un grande testimone della fede non è stata, ne può essere scritta una volta per tutte, una biografia. La biblioteca Padre Pio è paragonabile ad uno splendido mosaico, dice Padre Franco Moscone, che si arricchisce di sempre nuove tessere, ricavate dal paziente lavoro di indagine storica, svolto da quanti si sforzano di ripulire la sua fulgida figura dalle incrostazioni leggendarie, che con facilità si accavalano sopra una sterminata e non sempre attendibile pubblicistica. E poi conclude dicendo Il mio auspicio che si trasforma in invito alla lettura è che il ritmo della narrazione, la ricchezza delle informazioni condensate in capitoli snelli e veloci, non impediscano l'opportuna riflessione, che potrebbe essere favorita da ulteriori riletture per evitare che l'attenzione si saurisca nello sterile appagamento di curiosità. Quindi davvero un libro, come dire, da tenere sul comodino per apprendere qualcosa di più, ma anche di immediato, di più immediato, della vita del santo frate di Pietrelcina. Padre Pio, Il cammino di un santo, nuovo profilo aggiornato, nuovo profilo biografico aggiornato, firmato da Stefano Campanella. Parliamo adesso di un libro che racconta la storia, e raggruppa anche le preghiere della devozione mariana amata da Papa Francesco, edito dalla San Paolo, Maria che scioglie i nodi. Maria cammina con delicatezza e tenerezza di madre, si fa ospitare nella vita familiare, scioglie tutti i nodi dei tanti guai che riusciamo a generare e ci insegna a restare in piedi in mezzo alle tempeste. Parola questa, parole di Papa Francesco. Perché Maria che scioglie i nodi? Perché ogni vita ha i suoi nodi, ciascuno ha i propri nodi, che spesso anche si ripetono, si ripropongono in forme rinnovate, possono essere rapporti magari familiari, che si annodano in maniera da renderci incapaci di districarci, che sembrano impedire non solo noi, ma anche agli altri, quelli che per sangue e relazioni dovremmo avere più cari. Può trattarsi di un semplice litigio non risolto, incattivito dal tempo, forse tra fratelli e sorelle, di un'incomprensione tra genitori e figli. Questi sono alcuni nodi. Altre volte sono come matasse di figli che sembrano aver perso in noi capo e coda, anzi che ci portiamo nel cuore come macigne, che giungono a renderci depressi, angosciati, feriti e in molti modi feriti anche nel cuore. Anche qui le ragioni possono essere varie. Poi ci sono i nodi che vengono dalla storia dei nostri cari, magari amici intimi, se non parenti stretti. Nomi che hanno nomi terribili, che feriscono ancora a distanza di anni, vicende di droga, di gioco, di tradimento, di alcolismo, ma anche storie di malattie, di perdite improvvise. Infine ci sono i nodi dei nostri peccati, degli egoismi, dei vizi. Non occorre proseguire oltre. Ciascuno sa che cosa lo affligge. Ciascuno ha i suoi personalissimi intrighi da sciogliere. Si tratta di non negarli, ma di accettare la loro presenza, di riconoscerli. Questo è il primo passo. Se non riconosciamo di avere un problema, una personalissima ferita, se pensiamo che alcune cose si risolvano e si sciolgano da sé, non andremo lontano. Saremo come i bambini che per liberare una fune aggrovigliata peggiorano la situazione. Quindi in questo libro troveremo le preghiere, appunto anche il racconto dell'origine, della diffusione di questa preghiera, di Maria che scioglie i nodi, e poi appunto anche come poter recitare la novena, questa bellissima preghiera tanto cara a Papa Francesco, proprio per sciogliere i nodi che ritroviamo nelle vite e nelle esistenze di ciascuno di noi. Edito dalla San Paolo, Maria che scioglie i nodi, la storia e le preghiere della devozione mariana amata da Papa Francesco. E per la San Paolo, Vittorio Cigoli e Maria Luisa Gennari, due esperti, due psicologi e psicoterapeuti che insegnano anche psicologia clinica presso l'Università Cattolica di Milano, per la San Paolo firmano questo libro intitolato Quando non è per sempre. Beh, la copertina con l'immagine di questo bambino, molto piccolo, con un ossetto peluche in mano, e vediamo due adulti, si riconoscono, sicuramente un padre e una madre, che tirano una sciarpa. In questo libro si racconta di quello che succede ad un bambino quando i genitori decidono di separarsi, decidono di mettere fine alla loro storia. E come si legge nelle pagine, appunto, di questo libro, si può smettere di essere una coppia, ma non si può smettere di essere genitori. Come dire, si trovano davvero spunti di riflessione molto interessanti, sicuramente rivolti all'essere genitori nella separazione, ma magari sono anche, ecco, come dire, spunti per assistenti sociali o per coloro i quali devono affiancare la coppia nel momento della separazione. E vengono riportate anche delle storie realmente accadute in cui, come dire, ci si pone nei confronti di questa coppia anche per riflettere e per rendersi conto di come fare per affrontare un momento così difficile. Leggo un passaggio dell'introduzione intitolato ma l'amore può durare e il desiderio e l'attesa del legame di una prospettiva di per sempre, leggiamo nell'introduzione, vengono da molto lontano nel tempo. Appartengono, potremmo dire, ad una memoria ancestrale, ma nello scorrere dei secoli molte cose sono cambiate, specie nella cultura dell'Occidente. Nello scorrere del tempo anche il diritto alla scelta, specie in nome del diritto alla felicità individuale, sia espanso. Se il legame non mantiene le aspettative di bene, è sempre possibile divorziare. Quello che hanno interesse è proprio questo, la diffusione del divorzio, così come la frequente ricostruzione familiare e i suoi effetti sui figli, da vedere come generazione successiva. Intanto però, per il valore attribuito al per sempre del legame di coppia, andremo a vedere come la psicologia individua, le fonti che rendono possibile anche quello che lo rendono impraticabile. E quindi saranno così considerati le diverse modalità di affrontare il dolore originato dalla divisione del legame, che fatalmente coinvolgono le famiglie di origine, così come le amicizie, per finire a considerare che cosa 40 anni di ricerca sul tema ci offrono, sempre tenendo conto che non possiamo dividere il destino dei figli da quando le generazioni precedenti fanno o non fanno. Se guardiamo solo ai singoli individui, non possiamo riconoscere il problema, che è essenzialmente relazionale. Di nuovo, molto ci aiuteranno nuovi casi concreti, cioè le testimonianze di vita vissuta. Di Vittorio Cigoli e Maria Luisa Gennari, quando non è per sempre, edito dalla San Paolo. Concludiamo con un ultimo libro firmato da Bruno Ferrero, un salesiano che si occupa di educazione e catechesi, che in questo libro racconta tante storie per comprendere il tesoro contenuto nella preghiera del Padre Nostro, dei Dici Comandamenti, nella preghiera del Credo e delle Beatitudi. Ogni capitolo poi si chiude con delle sezioni di sintesi, preghiera e riflessione. Le perle della fede, in tante piccole storie, edito da Il Sicomoro, appunto firmato da Bruno Ferrero. Leggiamo una storia, che non è molto lunga. Venga il tuo regno, una scelta di classe. Se non me lo lasci fare non potrò andare a scuola, mi vergognerei troppo, è terribilmente importante mamma. Adriana scoppiò a piangere, era la sua arma più efficace. Uffa, fa come vuoi, brontolò la madre, sbattendo il cucchiaio sul lavello. Sembrerai un mostro, peggio per te. In altre 23 famiglie, stava avvenendo una scenetta più o meno simile. Erano i ragazzi della seconda B della scuola media, Carlo Alberto di Savoia. Per quel giorno avevano preso una decisione importante, ma gli allievi della seconda B erano 25. In effetti, solo nella venticinquesima famiglia, le cose stavano andando in modo diverso. Elisabetta era concentrata, ed era soprattutto un pieno di apprensione. La mamma e il papà cercavano di incoraggiarla. Era la quindicesima volta che la ragazzina correva a guardarsi allo specchio. Mi prenderanno in giro, lo so. Pensa a Marisa, che non mi sopporta, e a Paolo, che mi chiama canna da pesca. Non aspetteranno altro. Grossi lacrimoni salati cominciarono a scorrere sulle guance della ragazzina. Cercò di sistemarsi il cappellino sportivo che le stava un po' largo. Il papà la guardò con aria tranquilla e disse Coraggio Elisabetta, ti ricresceranno presto. Stai reagendo molto bene alla cura e tra qualche mese starei benissimo. Sì, ma guarda. Elisabetta indicò con aria affranta la sua testa, che si rifletteva nello specchio, lucida e rosea. La cura contro la leucemia che l'aveva colpita due mesi prima le aveva fatto cadere tutti i capelli. La mamma la abbracciò. Forza Elisabetta, si abitueranno presto, vedrai. Elisabetta tirò su col naso, si infilò il cappellino, prese lo zainetto e si avviò. Davanti alla porta della seconda B il cuore le martellava forte, chiuse gli occhi ed entrò. Quando riaprì gli occhi per cercare il suo banco, vide qualcosa di strano. Tutti, ma proprio tutti i suoi compagni, avevano un cappellino in testa. Si voltarono verso di lei e sorridento si tolsero il cappello esclamando Bentornate Elisabetta. Erano tutti rasati a zero. Anche Marisa, così fiera dei suoi riccioli, anche Paolo, anche Elena, anche Francesca. Tutti si alzarono in piedi e abbracciarono Elisabetta, che non sapeva se piangere o ridere, e mormorava soltanto grazie. Dalla cattedra e sorrideva anche il professore, che non si era rasato i capelli, perché era pelato di suo e aveva la testa come una palla di biliardo. Davvero bellissima. Questa è una delle tante storie riportate in questo libro, edito dal Sicomoro di Bruno Ferrero, Le perle della fede, in tante piccole storie. Con questo libro concludiamo questo appuntamento dedicato alla lettura. Tra le righe tornerà, come sempre, la prossima settimana.